Come risolvere un firewall che impedisce l'installazione del driver o le funzioni della stampante su Windows 11. Il software firewall di Windows contribuisce a bloccare le minacce esterne alla rete. Tuttavia, alcune impostazioni del firewall potrebbero causare problemi che interferiscono con la capacità di stampa. Tra i problemi comuni della stampante che possono essere causati dal software firewall troviamo. Non è possibile installare il software e i driver della stampante. Alcune funzioni della stampante funzionano mentre altre no. La stampante interrompe improvvisamente la stampa. Durante l'installazione del driver la stampante non viene rilevata nella rete e viene visualizzato lo stato nessuna connessione anche se la stampante è connessa alla rete. Per risolvere i problemi di stampa relativi al firewall, procedere come segue. Operazione 1. Disattivare temporaneamente il software firewall. Disattivare temporaneamente il firewall permette all'utente di capire se il software firewall è effettivamente la causa del problema. Questa operazione può essere eseguita utilizzando HP Print & Scan Doctor. HP Print & Scan Doctor è un'applicazione gratuita, preinstallata sui computer HP con sistema operativo Windows. Per aprirlo, cercare HP Print & Scan Doctor dalla barra delle applicazioni. Se si riceve un messaggio che chiede di consentire all'app di apportare modifiche al dispositivo in uso, selezionare Sì. Se l'applicazione non è installata sul computer o è stata rimossa, è possibile scaricarla dal support.hp.com barra help barra Print & Scan Doctor. Selezionare il menu a tendina rete dalla barra delle applicazioni nella parte superiore della schermata principale e selezionare Risolvi problemi dei firewall. Fare clic sul nome dei firewall abilitati, quindi fare clic su Disabilita. Eseguire questa operazione per tutti i firewall presenti nell'elenco. Provare a utilizzare la funzione della stampante o installare il driver di stampa che si sta cercando di risolvere. Se il problema viene risolto, allora la causa era il firewall. Tornare a HP Print & Scan Doctor e riattivare gli eventuali firewall che sono stati disattivati, quindi selezionare Fine. Operazione 2. Configurare le impostazioni del firewall per il servizio di sicurezza. Se si utilizza un servizio di sicurezza esterno, è possibile configurare le impostazioni di attendibilità per assicurarsi che la stampante in uso sia un dispositivo attendibile sulla rete in uso. Per farlo, contattare il proprio servizio specifico di sicurezza per ulteriori informazioni su queste impostazioni. Alcuni suggerimenti relativi al firewall. Aggiornare il software di protezione alla versione più recente. Assicurarsi che le impostazioni del firewall non siano state modificate rispetto alle impostazioni predefinite. Impostare la potenza del firewall su un livello medio o un livello equivalente quando si è connessi alla rete domestica. Impostare la rete come un'area attendibile. Accertarsi che tutti i programmi HP siano programmi attendibili e che non siano bloccati. Abilitare i messaggi di avviso per consentire, permettere o sbloccare l'installazione dei prodotti HP. Scopri ulteriori video utili sul canale YouTube del supporto HP.